21 anni fa il crollo della scuola Iovine causò la morte di 27 bambini e della loro maestra le commemorazioni tra Campobasso e San Giuliano. Capracotta crolla il tetto della chiesa di San Vincenzo messa in salvo l'antica campana. In Molise centinaia di interventi rischiano il definanziamento di Niro dell'Acem. Non possiamo permetterci il lusso di perdere 228 milioni di euro. Ottima risposta per le visite senologiche gratuite organizzate dalla Lilt al Neuromed e all'auditorium di Isernia. A Venafro nel giorno della memoria l'iniziativa sulle buone pratiche di sicurezza. Protagonisti gli alunni del Giordano. Bentrovati al consigliato appuntamento con l'informazione di TVI Molise. A causa del forte vento della notte scorsa alle sei di questa mattina un albero secolare è caduto sulla strada comunale incontrata a Tienio ad Isernia bloccato totalmente, bloccando totalmente la circolazione per alcune ore. I vigili del fuoco della sede centrale di Isernia hanno provveduto a sezionare l'albero e a spostare ai margini della strada i tronconi tagliati ripristinando così dopo un po' di tempo come state vedendo anche da queste immagini la viabilità che è stata temporaneamente interrotta. Ed oggi lo ricorderete sicuramente tutti ricorre l'anniversario del terremoto di San Giuliano di Puglia 21 anni fa a causa di quella tremenda scossa persero la vita 27 bambini e la loro maestra ricorderete sicuramente le immagini di quella scuola accartocciata su se stessa immagini e anche emozione che ripercorre in questo servizio Domenico Marzocchella anche a seguito delle commemorazioni che oggi ci sono state proprio a San Giuliano di Puglia e nel Consiglio regionale vediamo il Natale le macerie della scuola di san giuliano di puglia un ricordo seppur terribile lontano le macerie dell'animo quelle no non si riesce a rimuoverle nonostante il trascorrere degli anni oggi sono 21 impossibile per i genitori gli altri familiari e quanti direttamente quella tragedia l'hanno vissuta alle 11 e 32 del 31 di ottobre del 2002 la vita di 27 alunni della scuola e della loro maestra è rimasta sepolta sotto tonnellate di detriti di un edificio che invece avrebbe dovuto essere un luogo sicuro a prova di terremoto così non è stato la tragedia sconvolse e commosse l'italia la verità giudiziaria fece emergere cause irresponsabili la costruzione di una sopraelevata della struttura ne causò il cedimento condannati progettista direttore dei lavori un tecnico comunale costruttori e fin anche il sindaco d'allora sua figlia tra i bambini rimasti sotto le macerie ora è da tempo e l'ora è il tempo del ricordo di quelli che fin da subito furono chiamati gli angeli di san giuliano ma affinché le commemorazioni non diventino cerimonie sia enfatiche ma vuote è necessario che essi si accompagnino non una volta all'anno bensì tutti i giorni con azioni concrete tese alla prevenzione di simili inaccettabili tragedie stamane a campo basso il consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria poi la prodo a san giuliano alle 11 e 32 la visita al cimitero e di lì fino al parco della memoria lì 21 anni or sono c'era una scuola pensiero a quei ragazzi alla maestra quei momenti drammatici che pure ho vissuto direttamente recandomi sul posto i ciampi con le sue parole insomma ogni volta che uno ha la concentrazione necessaria per tornare indietro con la memoria subisce lo shock che subirono che subirono tutti gli italiani che subì il mondo intero con le immagini fecero il giro del mondo o è accaduto il disastro peraltro evitava questo è stato sancito poi da una sentenza che ormai è irrevocabile è passata in giudicato sicuramente tanti passi avanti sono stati fatti però per le istituzioni per la politica è un momento di riflessione di impegno di assunzione di responsabilità e anche di azioni concrete per evitare che si ripetano episodi di quel tipo e per dare davvero prospettive di crescita dobbiamo continuare a far crescere la cultura della sicurezza e la consapevolezza che eventi calamitosi possono ancora accadere quindi dobbiamo essere pronti preparati ma soprattutto mettere i nostri edifici pubblici in condizioni da garantire ai nostri figli ai nostri ragazzi a coloro che vanno la scuola soprattutto di poter stare in un ambiente sicuro e sano anche l'eurodeputato molisano aldo patricello interviene in occasione di questo anniversario e dice la memoria senza impegno politico e civile rischia di diventare un esercizio fine a se stesso una ricorrenza svuotata nel suo contenuto più importante ovvero il dovere ad operare di comuni accordo affinché simili tragedie non abbiano più ad accadere quanto successo nel 2002 a san giuliano di puglia prosegue l'europarlamentare ci impone dunque non soltanto di ricordare quei tragici istanti ma anche soprattutto di lavorare seriamente per garantire la massima sicurezza possibile per tutti gli edifici pubblici e privati credo sia questo conclude patricello il modo migliore per ricordare il dramma di quei giorni in cui persero la vita 30 persone tra cui 27 alunni e la loro maestra un altro crollo questa volta a capracotta della chiesa di san vincenzo fortunatamente è stata messa in salvo un'antica campana i vigili del fuoco e i fedeli hanno provveduto anche al trasferimento di alcune statue ed è già pronto il finanziamento per il recupero di questo edificio e ce ne parla carla marino un crollo parziale del tetto si è verificato nella notte tra sabato e domenica nella chiesa di san vincenzo a capracotta fortunatamente illesa la campana posizionata alla sommità della facciata anteriore si tratta di un antico bronzo realizzato nel 1864 da tommaso marinelli della celebre pontificia fonderia di agnone il cedimento del tetto realizzato in legno ha interessato la parte immediatamente alle spalle del campanile che però è rimasto intatto la chiesa di proprietà di una storica famiglia della borghesia capracottese ma destinata all'uso pubblico tant'è vero che fino a una ventina di anni fa vi si celebrava regolarmente messa risale alla seconda metà del 1700 e da diverso tempo era chiusa al culto sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che oltre a mettere in sicurezza l'area hanno effettuato le verifiche statiche sulla struttura e insieme ad alcuni fedeli hanno anche provveduto a spostare alcune statue ed opere d'arte contenute all'interno del luogo di culto gli uomini del distaccamento di agnone hanno lavorato a lungo per effettuare il recupero della campana affinché ne venisse preservata l'integrità operazioni concluse con successo e terminate con il trasferimento temporaneo presso altra sede come confermato dal vice sindaco di capracotta pasquale dinucci sono state collocate nella chiesa madre provvisoriamente appena termineranno i lavori torneranno al loro posto il sopralluogo tecnico non ha fatto registrare criticità sul resto della struttura che comunque già oggetto di un finanziamento per i lavori di recupero le condizioni della chiesa già erano note da tempo tant'è che la chiesa era chiusa e la regione ha concesso un finanziamento alla parrocchia di 80 mila euro per la riparazione del tetto poi viste le condizioni si è preferito togliere la campana e togliere due statue che si trovavano ancora all'interno ma comunque la chiesa diciamo dal punto di vista statico esterna è tranquilla non ci sono problemi quindi lo speriamo che non penso che si riesca in questo momento a ricostruire il tetto però si può mettere in sicurezza e non farci almeno entrare la neve nel periodo invernale l'intervento dovrebbe iniziare in tempi brevi la tempistica i soldi sono stati già concessi dalla regione si sta aspettando il provvedimento concessorio proprio della liquidità dei fondi per per fare gli interventi nella serata di venerdì scorso i carabinieri di isernia con il luogotenente michele zampini e il capitano francesco iodice hanno incontrato un gruppo di anziani presso la sala polivalente del comune di pesche nel corso dell'incontro cui hanno preso parte anche il sindaco maria antenucci e altre autorità comunali è stato affrontato il tema della prevenzione alle truffe focalizzando l'attenzione in particolar modo alle strategie di contrasto ai vari modus operandi attuati dai malfattori presenti hanno partecipato con interesse all'incontro e hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi proprio su questi rischi e su come farvi fronte cambiamo argomento il presidente dell'associazione degli edili molisani lancia un allarme molto preciso in molise 828 interventi rischiano il definanziamento per questo corrado di nero ha scritto ai parlamentari molisani e anche al presidente della regione e dice non possiamo permetterci il lusso di perdere 228 milioni di euro proprio per questi interventi e il servizio di Enzo Di Gaetano rischio definanziamento in molise per 828 interventi corrispondenti a un totale di 228 milioni di cui 188 di fondi pnrr e il grido d'allarme del lance maace molise lanciato dal presidente corrado di nero e diretto ai parlamentari molisani e al presidente della giunta regionale invocando il loro impegno per scongiurare tutto ciò all'inizio agosto infatti il governo ha trasmesso alla commissione europea una proposta per la revisione del pnrr nella quale è prevista una rimodulazione di circa 16 miliardi di euro di investimenti che uscirebbero dal pnrr per essere finanziati con altre risorse tra le quali fondi strutturali fondo sviluppo e coesione e piano nazionale complementare gli eventuali tagli colpirebbero circa 13 miliardi di investimenti di competenza dei comuni in parte già in corso di realizzazione nonostante le rassicurazioni del governo sulla copertura di detti interventi lace mance molise si dichiara preoccupata anche per il rischio di un rallentamento della realizzazione occorre una presa di coscienza da parte di questa classe politica e uno scatto d'orgoglio per impedire tutto ciò dichiara di nero non possiamo permetterci il lusso di perdere 228 milioni di finanziamenti perché dopo gli effetti del superbonus il pnrr è l'unico volano che può ancora trainare il settore edile in regione e mantenere viva l'economia locale tra l'altro si tratta di interventi inerenti la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni assai necessari per la sopravvivenza della nostra regione il presidente del tribunale di campo basso salvatore casiello ha nominato questa mattina il consiglio di disciplina territoriale sulla scorta dei nominativi in numero doppio indicati dal consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti conferma per la segretaria uscente Maria Grazia Fascitelli collega della TGR Molise e neopresidente Vincenzo Di Gaetano direttore responsabile di TVI Molise. L'ODG Molise ringrazia i colleghi per la disponibilità e augura loro un ottimo lavoro in sinergia con l'ordine regionale e anche la nostra redazione si unisce agli auguri dell'ordine dei giornalisti ed augura buon lavoro al nostro direttore Enzo Di Gaetano per la nomina conseguita questa mattina. Il MIT ha finanziato con risorse PNRR la Hydrogen Refueling Station che la società RES realizzerà in Molise. La società della famiglia Valerio ha annunciato che il suo progetto è stato inferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento previsto dal PNRR. L'ammontare del finanziamento a fondo perduto riconosciuto a RES e di oltre un milione di euro. Il progetto presentato dalla società prevede di realizzare un impianto di rifornimento di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale da localizzare nel comune di Pettoranello. Parliamo ancora di sicurezza perché proprio nel giorno della commemorazione dei morti di San Giuliano di Puglia l'Istituto Giordano di Venafro ha promosso un incontro sulla sicurezza degli istituti e tra i banchi di scuola. Per noi c'era Domenico Marzocchella. Parlare di sicurezza, quella che parte dai banchi di scuola nel giorno della memoria, è un modo concreto per commemorare gli angeli di San Giuliano. Protagonisti dell'iniziativa, gli studenti del Giordano di Venafro. Alla Palazzina Liberty l'incontro, trasmesso in diretta sul canale YouTube dell'Istituto, organizzato in sinergia con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Sernia. Mostrati i safety project delle classi prima e seconda nell'ambito del progetto nazionale denominato la sicurezza a partire dei banchi di scuola. Un continuo insegnamento della sicurezza attraverso gli insegnanti di classe, quindi non attraverso l'ingegnere che parla in classe. Quindi è fatto da tre fasi. La prima fase gli ingegneri fanno formazione ai docenti, quindi ai consigli di classe. I consigli di classe durante il loro regolare svolgimento insegnano ai ragazzi e poi c'è una vetrina finale che è quella odierna, bellissima, dei ragazzi che fanno questa vetrina con un progetto in cui non fanno altro che sintetizzare con un video, con un'esperienza, con un'intervista, con uno spettacolo teatrale, quello che è stato il concetto di sicurezza imparato all'interno della loro scuola. Prima si parte meglio è. L'anno prossimo addirittura io vorrei estendere questo progetto a partire dalla scuola dell'infanzia, perché la cultura della sicurezza deve partire proprio dai bambini più piccoli che devono essere consapevoli che la sicurezza è uno degli elementi più fondamentali della nostra vita e si deve estendere man mano che cresciamo. Ma la giornata è stata all'insegna della tematica sicurezza a tutto tondo, a partire da quella sulle strade, in proposito il progetto dei ragazzi della secondaria di primo grado di Monteroduni. Le ragazze hanno fatto un lavoro per portare la testimonianza della sicurezza all'interno del centro abitato di Monteroduni, il luogo dove vivono. Prima di tutto gli abbiamo spiegato a che cosa sono questi segnali che vanno in attesa come dei codici, che emettono sempre dei messaggi a cui bisogna attenersi per mantenere la sicurezza. Abbiamo fatto un sovralluogo su tutte le strade principali del paese, perché loro lo conoscevano meglio o meglio di noi. Poi li abbiamo fotografati e abbiamo montato questo video. La manifestazione è culminata alle fatidiche 11.32, l'ora in cui si è consumata la tragedia di San Giuliano di Puglia. L'applauso degli studenti, un altro modo per dire mai più. Le problematiche dell'autismo e delle disabilità motorie e psicofisiche sono state al centro dell'ormai tradizionale incontro del lunedì che i vertici del Consiglio regionale svolgono con associazioni, organizzazioni e cittadini che ne fanno richiesta. I vari rappresentanti delle associazioni hanno illustrato ieri agli esponenti regionali le diverse problematiche con cui i ragazzi e famiglie devono fare i conti. I rappresentanti dell'esecutivo e i diversi consiglieri hanno assicurato il loro impegno per intervenire in modo adeguato al fine di venire incontro alle tante difficoltà che ciascun disabile e le rispettive famiglie riscontrano quotidianamente. Ed ora parliamo di prevenzione senologica perché ha riscosso molto successo il progetto di prevenzione e di visite senologiche gratuite organizzate dalla Lilt sia all'istituto Neuromed che all'auditorium di Isernia. La prevenzione per questa patologia resta l'arma più efficace così come ci spiega in questo servizio Carla Marina. Bilancio positivo per le iniziative dell'ottobre rosa della Lilt finalizzate alla lotta ai tumori. Tre giornate di visite gratuite suddivise tra l'auditorium di Isernia e il centro donna dell'istituto Neuromed di Pozzilli. Un'iniziativa organizzata dalla sezione isernina della Lega Italiana per la lotta contro i tumori che ha ottenuto un ottimo riscontro sul territorio come rimarcato da Barbara Iadisernia volontaria della Lilt. Abbiamo un bel riscontro, molte belle risposte, abbiamo fatto tre giornate senologiche con i nostri dottori Rispoli Scarabeo e anche alla Neuromed e abbiamo fatto anche quelle di dermatologia sabato scorso. Abbiamo avuto un bel riscontro e una bella soddisfazione anche per noi e l'unica arma che abbiamo per sconviggere questo male è la prevenzione, quindi tuteliamoci. L'evento conclusivo è stato lo screening gratuito senologico che presso l'auditorium di Isernia è stato effettuato dai dottori Ettore Rispoli e Francesca Scarabeo. Particolare rilevanza è rivestita dalla prevenzione che continua a rappresentare lo strumento più importante nei confronti di queste patologie, come ribadito dal dottor Rispoli. È una delle poche armi che abbiamo per poter aumentare la sopravvivenza delle pazienti operate. Più il tumore è piccolo e meno possibilità ci sono che le cellule vadano in circolo. Io e la dottoressa Scarabea della Lilt di Isernia in queste due giornate che abbiamo fatto abbiamo visitato più di 100 pazienti per giornata, quindi 200 pazienti. Visitiamo ad oltranza senza prenotazioni perché con e senza prenotazioni perché tutti debbano fare la prevenzione. È importante perché in queste giornate non solo si visitano le pazienti ma si sensibilizzano le pazienti a quelle che sono i controlli. La prevenzione, ha aggiunto la dottoressa Scarabeo, è determinante non solo dal punto di vista diagnostico e terapeutico ma anche sul fronte del contenimento dei costi della spesa sanitaria. Se noi riusciamo a salvare una persona, se riusciamo a fare una diagnosi precoce, tutta la società ne ha un beneficio perché i costi per la cura e la guarigione di quella persona chiaramente vanno a vantaggio di tutta la società. Per quanto riguarda poi il discorso personale, singolo, individuale, è sicuramente molto più semplice affrontare un percorso più semplice per dire una persona con una lesione solo della mammella e non una persona metastatica. La cura e la prevenzione è alla base anche del risparmio di tutta la sanità. Fondamentale, d'altro canto, anche la risposta che il sistema sanitario riesce a dare ai pazienti, ha precisato il senologo, oggi non più in servizio presso l'ASREM. In due settimane ho fatto 14 interventi, cosa che negli ospedali pubblici per me era solo un sogno. Non è giusto che una paziente debba aspettare 30-40 giorni per essere operata e questo è stato anche il motivo per cui io mi sono dimesso dalla ASREM. Sul fronte della diffusione è stato sottolineato se è vero che l'incidenza dei casi è in aumento, la buona notizia è che le terapie sono più efficaci. Le speranze di guarigione sono più elevate. Sono alte, sono veramente alte. L'unica cosa che si chiede è cercare di fare diagnosi precoce. Prosegue in Molise la campagna di screening per l'epatite C promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise, messa in campo dall'ASREM con una serie di iniziative tese ad individuare i soggetti affetti dall'infezione ma completamente asintomatici. Il 4 novembre a Termoli in piazza Municipio dalle ore 10 alle 16 infermieri e medici dell'ASREM saranno a disposizione per eseguire il test ai cittadini molisani nati tra il 1969 e il 31 dicembre del 1989. Lo screening volontario gratuito non prevede alcuna necessità di prescrizione medica o pagamento di ticket che si effettua mediante una semplice puntura del polpastrello. Cambiamo argomento. Valeria Sassi, economista di fama nazionale originaria di Isernia e CEO di Innovatec, approfondisce l'argomento start-up ed innovazione in questa breve intervista che vi proponiamo e curata da Cristian Ciarlante. Ci vuoi descrivere quali sono i piani di intervento del fondo sulle start-up? Allora sì, Innovatec nasce all'interno della IG Investimenti Group appunto per dare voce e spazio alle start-up innovative. Non è un mistero come negli ultimi anni ci sia assistito al proliferarsi di start-up innovative e in qualche modo anche all'adeguamento di tutto l'ecosistema intorno alle start-up innovative per dare un contributo sostanzioso su quella che ormai è stata identificata come eccellenza italiana e cioè la capacità di innovare. Ovviamente ci troviamo in un contesto macroeconomico difficile legato anche all'inasprimento degli standard di credito su tutte le asset class da parte di banche e mercati pubblici che però paradossalmente hanno portato al proliferarsi di nuove opportunità di investimento. Quelli che potremmo definire come alternative lender privati oggi stanno dando un contributo notevole in termini di quantità e qualità del credito a sostegno del settore privato e quindi delle start-up innovative. Ovviamente c'è ancora molto da fare dal mio punto di vista anche per fare in modo che i piccoli investitori privati trovino convenienza ad investire nelle start-up innovative. L'Italia è un sistema territoriale, molte start-up nascono nei primi comuni quindi pensiamo a cosa potrebbe succedere se un cittadino che conosce l'imprenditore e che magari ha voglia di contribuire allo sviluppo del territorio potesse investire con enormi agevolazioni. Una filiera delle mandorle bio tutta italiana questo è l'obiettivo che sta portando avanti la Nutfruit Italia azienda agricola biologica di Monteroduni dove ieri si è tenuta la terza visita aziendale legata alle pratiche di agricoltura bio inserita nel progetto AgriSmart di Coldiretti per l'innovazione in agricoltura. La mandorla ha spiegato il titolare della Nutfruit Italia Claudio Papa è un frutto molto richiesto in Italia, specie dall'industria dolciaria. Il nostro obiettivo, ha aggiunto Papa, è quello di riportare l'Italia fra i maggiori produttori di questo frutto in guscio e trasformarlo direttamente nel nostro territorio. Ed ora vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Vox Populi la trasmissione accurata da Michele D'Alessio che va in onda questa sera alle ore 21 sul nostro canale 110 del Digitale Terrestre ma che potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.tvimolise.it in questo servizio vi doniamo una piccola anticipazione di questa puntata dove Michele D'Alessio ripropone un programma andato in onda nel 1985 in cui Mimmo Carola parlava della viabilità in città. Oggi Mimmo Carola, ex comandante dei Vigili Urbani di Sernia parla dei cambiamenti in atto proprio da questo punto di vista. Vediamo. Domenico Carola per 40 anni responsabile della polizia urbana qui a Di Sernia esattamente da che anno a che anno? Dal 1969 al 2017-18, roba del genere insomma. Oggi pensionato? Oggi diciamo pensionato, è un eufemismo ma diciamo pensionato. Non sta fermo? No, anche perché sono impegnato con il Sole 24 Ore in quanto io sono redattore della guida al diritto del Sole 24 Ore faccio delle consulenze con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per quanto riguarda il disegno di legge delega di riforma delle norme del codice della strada faccio il consulente per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione attualmente alla presenza del Consiglio dei Ministri e faccio ancora convegni e aggiornamenti in tutta Italia tant'è che la settimana prossima sono impegnato a Firenze dove ero un corso a tutti gli ufficiali di quella polizia locale nonché a tutti gli istruttori della viabilità. Andiamo indietro negli anni. Il 1985 fu ospite del mio programma e si parlava di Sernia del quartiere San Lazzaro che stava nascendo. Ricorda quali erano i problemi di ieri? Sì, lo ricordo perfettamente. Si discuteva di varie problematiche e si accentuò il discorso sulla crescita che allora stava avendo San Lazzaro. San Lazzaro era all'inizio, mancavano tante di quelle cose e giustamente in quella senata, in quell'incontro lei riuscì benissimo a mettere insieme le varie problematiche per le risoluzioni dei vari interlocutori che erano presenti a quel confronto. E da allora si sono fatti tantissimi passi avanti. Io non so se in negativo o in positivo ai posti dell'altro sentenza ma per quanto riguarda per esempio il traffico è chiaro che c'è stata una crescita esponenziale dei veicoli per cui oggi dico che a Isernia va stretto il traffico veicolare con un appunto però da fare con i cittadini sernini che sono abituati purtroppo ad avere il veicolo come parte integrante del loro camminare in quanto non esiste a Isernia fare un percorso a piedi per regarsi da un punto all'altro. Enrico Brignano raddoppia l'appuntamento a Isernia dopo il sold out registrato in sole tre ore per lo spettacolo previsto per il 29 novembre nell'auditorium Unità d'Italia e il popolare artista infatti ha voluto omaggiare il pubblico molisano con una nuova data in programma il prossimo 28 novembre sempre a Isernia con Ma diamoci del tu biglietti in vendita su Ciao Tickets dalle ore 15 di oggi ebbene siamo in chiusura prima di salutarci come sempre diamo uno sguardo alle previsioni del tempo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi martedì 31 ottobre un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile da solo lato ovunque nello specifico sul litorale e subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata mentre sull'appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge il rapido assorbimento dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata venti moderati dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti sud-occidentali mare da molto mosso a mosso temperature e campo basso minima 17 massima 19 Isegna minima 14 massima 20 Termoli minima 19 massima 25 Venafro minima 14 massima 22 Previsioni per mercoledì 1 novembre la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi fino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio nello specifico sul litorale e subappennino nubi sparsi alternate a timide schiarite con tendenza graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi mentre sull'appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio in assorbimento verso serata venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti sud-occidentali mare mosso temperature e campo basso minima 11 massima 16 Isegna minima 11 massima 17 Termoli minima 16 massima 21 Venafro minima 11 massima 19 Ed è davvero tutto grazie per aver scelto l'informazione di TV in Molise e a voi tutti auguro un buon proseguimento di giornata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti